buonasera buonasera un non per voi ma pur moi faccialibro mi ha bloccato per due battute fatte con amici a un'amica giovanna che anche collega di congrega scherzando gli avevo scritto siccome lei mi diceva che non conosceva i mochi i dolcetti giapponesi io scherzando ci ho scritto non è possibile ti frusto e poi ti boccio ti rimando a settembre non puoi non conoscere i mochi e mi mandano un avviso di garanzia per l'account a rischio e limitato stasera un amico su una delle foto che faccio a volte con i defunti e che poi condivido sul mio account appunto sempre di faccialibro questo è un amico fabio con il quale siamo cresciuti insieme sono 30 anni che ci conosce più cavolo dico più di 30 anni 36 anni 37 anni che siamo amici proprio e scherzando perché lui mi ha scritto ma cosa vi fumate perché lui non vede mai una cippa sulle foto al che io sotto c'ho scritto non aspetta che quando vengo a genova ti picchio ma a modo di dire no come battuta per ridere tra amici e niente ma siccome il signor zuc ha messo ha fatto mettere degli algoritmi che secondo me li hanno studiati veramente dei programmi programmatori che hanno preso il diploma con il punti della nutella è perché sicuramente chi ha tanti miliardi assume la gente più scamarcia e incapace per risparmiare probabilmente non lo so comunque hanno messo degli algoritmi che fanno veramente piangere i ciechi quindi vabbè becchiamoci sto blocco le mie grosse malvagità che vanno contro gli standard della community secondo lui se loro i suoi programmatori non hanno uno straccio di amico e non sanno cosa significa scherzare con gli amici non è il mio problema ma vabbè comunque sto sugli altri social sto su instagram su twitter su tumblr a voglia e qua soprattutto qua su youtube dove le di cost e le di sadako salutano o voglio parlare voglio parlare di un esperimento che non esperimento voglio parlare mi sono segnata due tre storie che poi vi voglio leggere per quello le stavo cercando perché non le avevo aperte prima questo dottore Gary Schwarz è un ricercatore e medico chirurgo ha notato dalle testimonianze di alcuni suoi pazienti che hanno ricevuto degli organi intrapianto che in qualche modo qualcuna delle caratteristiche del donatore iniziavano a farsi palesi nei riceventi seppure i riceventi non sapessero nemmeno chi erano i donatori e quant'altro vi leggo qualcuna delle sue testimonianze che ha annotato nell'interessarsi poi proprio a questa casistica allora qui è il padre del donatore che racconta al dottore mio figlio amava scrivere poesie dopo la sua scomparsa avevamo atteso più di un anno prima di riordinare la sua stanza abbiamo trovato un quaderno di poesie che non ci aveva mai mostrato e del quale non abbiamo parlato a nessuno una delle poesie ci ha scosso tanto sotto il profilo spirituale quanto sotto quello emotivo narrava della sua visione della propria improvvisa morte mio figlio era anche un musicista ed abbiamo trovato una canzone dal titolo Danny il mio cuore per te il cui testo descriveva come mio figlio fosse destinato a morire e a donare il suo cuore a qualcuno aveva preso la decisione di donare gli organi all'età di 12 anni pensammo che fosse una decisione difficile ma eravamo convinti che ne avessero discusso a scuola quando abbiamo conosciuto la ricevente eravamo così non riuscivamo a capire né ce ne rendiamo conto nemmeno adesso no davvero d'altra parte dall'altro lato sempre al dottore Schwarz la ricevente dell'organo quindi la donna che ha ricevuto il cuore di questo ragazzo quando mi hanno fatto vedere le foto del figlio l'ho riconosciuto subito l'avrei riconosciuto ovunque egli è in me so che è dentro di me e che mi ama mio amante da sempre forse in un altro tempo o in un altro luogo come faceva a sapere con vari anni di anticipo che sarebbe morto e che mi avrebbe donato il suo cuore come faceva a sapere che il mio nome è Danny poi quando mi ha fatto ascoltare alcune sue canzoni ero capace di completarne le frasi prima non sapevo suonare alcuno strumento ma dopo il trapianto ho iniziato ad amare la musica la sentivo nel cuore il mio cuore doveva suonarla ho detto a mia madre che desideravo prendere lezioni di chitarra lo stesso strumento suonato da Paul il donatore la sua canzone è dentro di me di notte la precipisco spesso ed è come se Paul mi facesse una serenata questo invece è il racconto del padre della ricevente mia figlia era quella che definireste una pianta grane sino a quando non si ammalò dicono a causa di un dentista era turbolenta poi si è accalmata penso che fosse a causa della malattia ma lei ha detto che percepiva più energia e non meno che voleva suonare uno strumento e cantare la prima canzone scritta di suo pugno riguardava il suo cuore nuovo ovvero il cuore del suo amante Danny raccontava che il suo amante era venuto a salvarle la vita questo è il primo caso annotato dal dottor Schwarz e da lì il dottore si interessò maggiormente ad annotare e anche a intervistare altre persone da lui seguite proprio sui trapianti il secondo caso il donatore un bimbo di 16 mesi annegato in una vasca il ricevente un bimbo di 7 mesi a cui era stata diagnosticata una tetralogia di fallo un foro del set interventricolare con dislocazione della orta stenosi polmonare e in spessimento del ventricolo destro quindi aveva praticamente una parte di cuore e di polmone paralizzata e necessitava di trapianto questi però avevano 16 mesi il donatore e 7 mesi era proprio piccolissimo il ricevente osservazioni della madre del donatore la prima cosa è che non mi limitavo a udire il cuore di Gerry il donatore riuscivo a percepirlo in me quando Carter il ricevente mi ha visto per la prima volta si è precipitato verso di me ha premuto il naso contro di me strofinandolo con insistenza esattamente come faceva il mio Gerry quando Carter mi abbracciava riuscivo a percepire mio figlio e non intendo simbolicamente era lì percepivo la sua energia sono un medico sono addestrata ad essere una perspicace osservatrice e sono sempre stata scettica di natura ma il fenomeno era reale so che alcuni diranno che provo la necessità di credere che lo spirito di mio figlio è vivo e forse le cose stanno anche in questi termini ma l'ho percepito mio marito e mio padre l'hanno percepito e vi giuro potete chiedere a mia madre che Carter adoperava lo stesso linguaggio infantile di Gerry Carter ha sei anni ora ma usava lo stesso linguaggio di Gerry e giocherellava con il suo naso esattamente come faceva Gerry quella notte restammo con la famiglia del ricevente a notte fonda Carter venne a chiedermi di dormire assieme a me e a mio marito si accoccolò fra di noi proprio come faceva Gerry e noi iniziamo a piangere Carter ci disse di non farlo poiché Gerry diceva che era tutto a posto io e mio marito i nostri genitori e tutti coloro che hanno conosciuto a fondo Gerry non hanno dubbi il cuore di nostro figlio contiene molto di lui e batte nel petto di Carter a qualche livello nostro figlio è ancora vivo questo invece è il racconto della ricevente cioè della mamma del bambino ricevente ho visto Carter andare da lei la madre del donatore cosa che non fa mai è timidissimo ma è andato da lei nello stesso modo in cui era solito correre da me quando era più piccolo quando le ha sussurrato va tutto bene mamma sono crollata l'ha chiamata mamma o forse era il cuore di Gerry a parlare un'altra cosa parlando con la madre di Gerry abbiamo scoperto che il bambino presentava una leggera paralisi celebrale per lo più sul lato sinistro Carter presentava una certa rigidità e qualche tremore sul medesimo lato disturbo di cui non soffriva da piccolo e che si è manifestato solo dopo il trapianto i medici dicono che si tratta di qualcosa che probabilmente ha a che fare con la sua condizione medica tuttavia sono davvero convinta che ci sia ben altro vediamo un'altra questione che mi piacerebbe approfondire quando ci siamo recati assieme in chiesa Carter non aveva ancora conosciuto il padre di Gerry siamo arrivati tardi e quest'ultimo era seduto con un gruppo di persone in mezzo ai fedeli Carter ha lasciato la mia mano e si è diretto proprio verso quell'uomo gli si è arrampicato in grembo lo ha abbracciato e ha detto papà noi eravamo sbalorditi come poteva conoscerlo non si era mai comportato così mai e poi mai avrebbe lasciato la mia mano e men che meno si sarebbe diretto verso un estraneo quando gli chiesi perché lo avesse fatto rispose che non era stato lui aggiungendo che era stato Gerry e che lui gli era andato appresso e questo caso già è ancora più particolare perché si tratta del comportamento di un bambino che ha ricevuto un trapianto quando aveva sei mesi ma i cui genitori si sono riusciti a confrontare sette mesi si sono riusciti a confrontare solamente quando il bambino aveva già sei anni e prima nel suo sviluppo psicofisico neanche i genitori del bambino sapevano chi fosse il donatore terzo caso donatrice una ventiquattrenne vittima di un incidente stradale il ricevente uno studente universitario venticinquenne affetto da fibrosi cistica sottoposta a trapianto cuore e polmoni il racconto della sorella della donatrice mia sorella era una persona assai volutuosa appassionata di pittura era in procinto di allestire la sua prima personale presso una piccola galleria d'arte quando un ubriaco le piombò addosso il locale era è un laboratorio artistico lesbico che appoggia gli artisti gay mia sorella non era propriamente una lesbica dichiarata tuttavia era omosessuale diceva che in realtà i suoi paesaggi erano rappresentazioni della figura materna o femminile era solita osservare una modella nuda e in base ad essa dipingere un paesaggio riuscita a immaginarlo aveva un talento particolare il racconto del ricevente in principio non l'avevo mai detta nessuno ma pensavo che il fatto di avere il cuore di una donna mi avrebbe trasformato nell'essere gay da quando sono stato sottoposto all'intervento sono più eccitato che mai e le donne mi sembrano ancora più erotiche e sensuali quindi ho pensato che forse avevo subito un intervento chirurgico transessuale interno il mio medico mi ha detto che era solo la mia rinnovata energia e le mie nuove prospettive di vita che mi facevano sentire così ma io mi sento diverso so che sono diverso faccio l'amore come se sapessi esattamente quello che il corpo di una donna percepisce e come reagisce quasi come se si trattasse del mio corpo ho lo stesso corpo tuttavia sono convinto che ora penso al sesso come fa una donna e qui entra in gioco il racconto anche della compagna del ricevente miglior testimone non ce può essere adesso è un amante di gran lunga migliore naturalmente prima era più debole ma si è ripreso intendo dire che è come se conoscesse il mio corpo come lo conosco io vuole indulgere in coccole fare le cose con calma e dedicarci molto tempo prima era un valido amante ma certo non così le cose sono diverse vuole abbracciarmi in continuazione andare per negozi mio dio non voleva mai andarci e sa che cosa adesso porta una borsa la sua borsa se la porta in spalla e la chiama il suo sacco ma è una borsa odia che io glielo dica ma andare al centro commerciale con lui è come andarci con una delle mie amiche come se non bastasse gli piace visitare i musei prima non l'avrebbe mai fatto nemmeno per sogno mentre adesso ci andrebbe una volta alla settimana a volte si ferma alcuni minuti a rimirare dei quadri senza aprire bocca predilige i paesaggi e se ne sta lì a contemplarli a volte lo lascio lì e ritorno dopo un po' di tempo e questo qui era il terzo caso ovviamente ce ne sono moltissimi io ne ho scelti un po' per ordine cronologico un po' perché non posso stare fino a domani mattina a parlare di tutto il libro del dottor Schwarz e di tutte le sue testimonianze queste sono reperibili abbastanza anche in giro per il web e quindi più facili da trovare quarto caso è l'ultimo di cui parlo stasera il donatore è uno studente diciassettenne di colore vittima casuale di una sparatoria il ricevente è un quarantasettenne bianco operaio di fonderia qui era stata diagnosticata una stenosi aortica il racconto della madre del donatore nostro figlio fu colpito mentre si stava recando a lezione di violino nessuno sa da dove sia arrivato il proiettile che tuttavia lo colpì in pieno cadde a terra e morì lì sul serciato abbracciata alla sua custodia del suo strumento amava la musica e i suoi insegnanti dicevano che vi era molto portato ascoltava i brani musicali e li seguiva suonandoci sopra e penso che un giorno sarebbe arrivato a suonare alla Carnegie Hall anche se gli altri suoi coetanei scarnivano sempre il genere di musica che gli piaceva il racconto del ricevente il signore di 47 anni sono davvero dispiaciuto per il ragazzo che è deceduto e mi ha donato il suo cuore tuttavia il fatto che fosse di colore mi sta procurando seri problemi tenete presente che non sono razzista nemmeno per idea i miei amici della fonderia sono in maggioranza di colore non di meno l'idea del cuore di un nero nell'organismo di un bianco sembra davvero beh una cosa normale non saprei nemmeno cosa dire ho detto a mia moglie che pensavo che il mio pene potesse crescere sino alle dimensioni di quelle di un nero questo è il livello culturale dei pazienti e vabbè dicono che i neri abbiano peni più grossi ma non lo so per certo dopo che abbiamo fatto l'amore a volte mi sento in colpa perché un nero lo ha fatto con mia moglie comunque non prendo questa idea in seria considerazione qualsiasi uomo in parte dentro di me comunque posso dirvi una cosa prima odiavo la musica classica mentre adesso mi piace quindi so che non dipende dal mio nuovo cuore perché è un ragazzo proveniente da un ceto medio basso e non dovrebbe esserne affascinato ora rasserena il mio cuore la suono in continuazione ed è qualcosa di più del puro piacere dell'ascolto non ho detto a nessuno dei miei colleghi di lavoro che ho il cuore di un ragazzo di colore tuttavia ci penso parecchio racconto della moglie del ricevente quando ha sentito che si trattava del cuore di un ragazzo e per di più di colore era ben più preoccupato in effetti mi ha domandato se poteva chiedere al dottore di avere un cuore diverso di uno della sua età o magari della sua razza allora quando fosse stato disponibile non è che non è Archie Bunker taxista razzista personaggio di una fortunata sitcom ma ci si avvicina e mi ucciderebbe se sapesse che vi ho raccontato tutto questo tuttavia per la prima volta ha inviato i suoi colleghi ha inviato i suoi colleghi di lavoro quelli di colore dopo il lavoro li ha invitati a casa e come se non bastasse più al colore della loro pelle anche se a volte ne parla ancora sembra non farci più caso sembra che sia più a suo agio con quei ragazzi ma non se ne renda neanche conto dovrei raggiungere un'altra cosa mi sta facendo impazzire con la musica classica non conosce il titolo di un solo brano e prima non l'ascoltava mai adesso se ne sta seduta ad ascoltarla per ore e fischietta pezzi di musica classica che non può aver mai conosciuto come fa a conoscerli verrebbe da pensare che visto che ha il cuore di un suonatore gli dovrebbe piacere il rap o cose più moderne essendo la giovane età questa è la testimonianza un po' messa così di questi pazienti testimonianze ce ne sono tantissime il dottor Schwarz ha tirato giù anche un libro ma diciamo che di lui in giro per il web si trova tanto materiale allora la teoria del dottor Schwarz è che in qualche modo centrino le memorie cellulari ora è vero che le cellule hanno una memoria loro particolare che è scusate l'attacco di rantega è strettamente correlata a quella che viene anche definita memoria genetica una parte della memoria memoria materiale dei nostri genitori per esempio o dei nostri nonni di ciò che hanno visto che hanno sentito che hanno vissuto prima del nostro concepimento è entrato in qualche modo a far parte anche della nostra memoria cellulare perché a quanto pare sembrerebbe che la memoria e i ricordi mnemonici si vadano a fissare in ogni singola cellula del corpo umano della persona che li sta vivendo di conseguenza il dottor schwarz suppone che questi atteggiamenti questi cambi a volte di gusto questi cambi di personalità in parte e questo riconoscere determinate persone mai viste conosciute prima potrebbe dipendere dal collegamento delle cellule che durante un trapianto vanno a mescolarsi tra quelle del ricevente e quelle del donatore se l'organo non fa rigetto ma viene assorbito dal corpo del ricevente si salda in automatico all'attacco del vecchio organo e le cellule di uno e dell'altro entrano in comunione e vanno a mescolarsi per tutto il corpo mescolando quindi anche le memorie cellulari però questa questa cosa mi pare un po' forzata perché seppur io sia una che creda a livello scientifico alla teoria delle memorie cellulari in parte su altri discorsi non su questo specifico studio però le nostre cellule riportano e assorbono anche le memorie dei nostri avi e le mantengono di generazione in generazione su questo sono abbastanza concorde con i genetisti però la la cellula dal mio punto di vista può portare il ricordo ma non l'emozione di quella persona o la caratterialità e quindi queste persone che invece hanno una sorta di cambiamento anche a livello emozionale il ragazzo che oltre al discorso del sesso si fermava a guardare dipinti e la donatrice era pittrice e questo qui che era mezzo razzista ed era pure l'ultimo che ho raccontato ed era pure un un'operaietto di di fabbrica abbastanza gretto e rozzo e invece si è ritrovato a perdere quasi completamente il suo razzismo e di punto in bianco a diventare anche un amante di un genere musicale che peraltro è la musica classica che ci vuole bisogna avere anche una certa sensibilità per apprezzarla perché altrimenti dà solo a noia come tipologia di melodia il bambino poi che riconosce la forma del del papà del donatore gli corre incontro e lo chiama papà sono tutti stati emozionali e le emozioni dubito che viaggino a livello di dna a livello cellulare i gusti sono un'altra cosa perché il gusto cioè il piacere di certi sapori e il ribrezzo per certi altri sapori sono genetici sono dati da come le nostre papille gustative ricevono il messaggio di quel sapore quindi c'è quella quel sapore che le nostre papille gustative sono attratte e c'è quel sapore che le nostre papille gustative come ci si avvicinano vedi me quando vedo il tartufo mi sento male poi qua nelle Marche che lo mangiano tutti mi scappa la voglia che mi viene da scappare quando vedo il tartufo in qualche piatto anche solo per la puzza figuriamoci per il sapore comunque appunto deve essere una questione meramente genetica invece il mio punto di vista paranormale ovviamente altrimenti non starei qua a parlarne in un video e medianico si rifà al video che ho fatto sull'abbigliamento sui vestiti e gli oggetti del defunto cioè se è vero che tenere i vestiti tenere gli oggetti che comunque sono stati a contatto con la pelle di chi poi è venuto a mancare e quindi hanno in qualche modo anche solo nelle impronte digitali che ha lasciato uno stralcio del suo DNA in qualche modo non liberano del tutto il defunto lo tengono un po' attratto verso quella microscopica parte di se stesso che ha lasciato sopra un oggetto sopra un vestito e via dicendo posso solo immaginare quanto possa attirare a sé un organo che è stato dentro al corpo del defunto mettiamoci poi anche un'altra cosa i defunti normalmente non possiedono cioè non fanno possessioni ai vivi l'ho spiegato nel video che si intitola un corpo in prestito ma non le fanno a meno che il proprietario del corpo vivo e fisico non gliene dia il permesso cioè ma si dai usami usami no come era comprami io sono in vendita no quella era una canzone degli anni settanta di viola valentino peraltro ma vabbè che poi era anche carina la canzone e avendo avendo invece dentro al corpo un organo che comunque è stato dentro al corpo di quel defunto e quindi era proprietà di quell'anima in qualche modo per interagire con quel corpo nuovo quei determinati defunti non hanno la necessità di chiedere il permesso perché lì dentro c'è un pezzo loro e quindi ci possono entrare quando gli pare certo non è una possessione totale che però è una coabitazione nella quale molte volte anche il ricevente se ne rende perfettamente conto e in effetti la maggior parte dei riceventi di trapianti a un certo punto della loro vita diventano tutti estremamente spirituali per fortuna non religiosi solo spirituali perché iniziano a comprendere proprio il rapporto che si può avere con le entità che non è necessario vederle come le vedo io o come le vedono altri medium ma a volte si sentono si avverte comunque il rapporto e le persone che hanno subito dei trapianti non tutte ovviamente ma un buon 80% ha in qualche modo riscontrato queste vibrazioni nuove spirituali e secondo me è la spiegazione migliore poi che ci sia anche un incipit di ricordo cellulare e che viaggia attraverso l'RNA messaggero tra i dna del donatore quindi dell'organo e del ricevente anche ci sta può cambiare appunto il gusto mi piace il rosso no adesso mi piace il viola mi piaceva la birra ora mi piace la coca cola prima mangiavo pesce ora se sento l'odore mi sento male quello può essere un cambiamento a livello di struttura cellulare perché questi fattori sono influiti dalla nostra vista dal nostro gusto dal nostro olfatto quindi comunque dalle cellule olfattive dalle cellule delle papille gustative dalla nostra capacità visiva e quant'altro quindi un discorso meramente biologico anatomico ma per quanto riguarda invece la sfera emozionale io sono più propensa a tendere per la spiegazione paranormale comunque il dottor schwarz ha buttato lì l'ipotesi che possa essere invece un viaggio cellulare un viaggio di memorie cellulare dal mio punto di vista è invece un collegamento diretto con il defunto e credo che la pensino così anche quasi un buon 80% dei riceventi di trapianti per il resto che dire c'era un film di ai confini della realtà che non so se l'ho caricato nelle mie serie tv perché ne ho caricati tanti ma non tutti sono tantissimi prima o poi li caricherò pian piano nel corso degli anni a venire li caricherò ma c'era uno che vedi tanti anni fa non ricordo il titolo dove c'era un tizio che subiva il trapianto di un braccio intero però questo braccio si voleva fare gli affari suoi e questo aveva un sacco di problemi finché poi non cerca di tagliarselo il braccio si incavola e lo strozza vabbè era uno pseudo horror però diciamo che l'idea di fondo e vi parlo di uno spezzone di telefilm degli anni 80 metà precisa perché nell'85 c'era questa serie a colori dei confini della realtà dei twilight zone quindi metà anni 80 queste teorie il dottor schwarz e altri simili non erano ancora state varate a livello scientifico da nessuno seppur il folclore e le idee popolari non di studiosi intorno alle situazioni di trapianti che all'epoca parlo di 40 anni fa erano ancora abbastanza rudimentali rispetto a oggi davano già però questa impressione di un legame che veniva a nascere improvvisamente molto molto stretto tra il corpo del ricevente e l'anima del donatore se avete idee sono qua su facebook non vi posso rispondere finché non mi sbloccano la grande malvagia e cattivissima è stata bloccata perché non rispettava gli standard standard no comment sugli altri social ci sono ma li apro poco e niente e quindi come al solito se le domande me le volete fa qui sotto direttamente su youtube è il punto migliore detto questo qua sotto ma un po' prima dei commenti la lista di tutti i social dove mi trovate e quando mi sbloccano sono di nuovo pure su facebook e un po' più sotto tre o quattro le più conosciute bene o male le più utilizzate sul web delle invece mille mille librerie che tengono in venita i miei libri tra l'altro avviso per tutti quelli che mi stanno chiedendo a me personalmente le spedizioni dei libri io li spedisco volentieri con la firmetta con la dedica quando li ho disponibili al momento di disponibile ho ben poco c'ho ancora tre o quattro rituali di vita quotidiana due incanti radicanti un solo romanzo di i n a e quattro quando l'oltre è un passo da noi ho momentaneamente finito pare d'olia più ora quei dintorni ho finito k n r il secondo romanzo ma al momento non li riordino perché a giugno devo far uscire il mio settimo libro testimonianze di una vita volume 1 e quindi farò poi un tot di ordini dei libri che tengo io quando sarà pronto anche quello nuovo di modo da fare un carico unico ma in ogni caso i miei libri li trovate tutti sia nelle librerie fisiche sia nelle librerie online amazon libri su ebay su ips su streetlib su feltrinelli su mondadori o alla feltrinelli alla mondadori senza problemi su ordinazione anche le librerie fisiche ve li fanno arrivare senza problemi detto questo ciao ciao